ben tornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici vi racconto una storia molto triste quella dell'influencer alexis sharkey che dietro alle sue foto su instagram o ai suoi video youtube sulla sua vita apparentemente perfetta nascondeva una realtà molto diversa alexis sharkey nasce alexis lay robinall il 25 gennaio del 1994 a warren una piccola cittadina del nord ovest della pennsylvania dai genitori michael robinall e stacy clark che oltre lei hanno anche altre due figlie toby e riley gli amici e la famiglia descrivono alexis come una persona amorevole generosa e molto affettuosa sempre motivata nell'automigliorarsi e determinata nel perseguire obiettivi sempre più grandi alexis è estremamente estroversa le piace essere sempre circondata dalle persone le piace fare amicizia e le piace divertirsi e viaggiare alexis è sempre pronta a nuove avventure alexis è anche un'ottima studentessa ama imparare cose nuove infatti lei stessa si definisce dipendente dall'apprendimento si diploma nel 2012 alla youngsville high school dopodiché inizia una brillante carriera universitaria presso la pittsburgh university a bradford dove mantiene una media altissima addirittura entrando nella national honor society che sarebbe una specie di organizzazione molto rinomata che premia e riunisce gli studenti più meritevoli della nazione intera nel 2016 si laurea con una specializzazione in biologia una in nutrizione e una in psicologia la sua intenzione era poi quella di iscriversi alla facoltà di medicina dopo ma ad un certo punto decide di stravolgere i suoi piani ed è curioso sapendo quello che succederà nel suo futuro ma all'improvviso alexis sente come una voglia irrefrenabile di godersi la vita vuole fare tutte le esperienze possibili prima che sia troppo tardi e sa che se si fosse iscritta a medicina avrebbe dovuto passare i successivi 5 10 anni della sua vita a studiare e basta decide invece che per i successivi due anni avrebbe fatto un lavoro sicuramente umile avrebbe lavorato come cameriera barista non le importava quale lavoro così che avrebbe avuto i soldi necessari per mantenersi mentre viaggiava e appunto faceva esperienze faceva tutte quelle cose che le piaceva fare si trasferisce quindi in texas precisamente nella città di odessa perché alexis ama il caldo quindi si trasferisce in texas fondamentalmente per quello per stare sempre al caldo e in questo io la capisco e inizia a lavorare come barista in un locale che si chiama twin peaks lavoro che appunto non le fa guadagnare cifre da capogiro ma che le permette di mantenersi di farsi dei nuovi amici in una città nuova e di viaggiare nel tempo libero e tra le tante persone che incontra in questa nuova città nella sua nuova vita ce n'è una in particolare un uomo di cui alexis si invaghisce all'istante il suo nome è tom sharky tom frequenta spesso il bar in cui lavora alexis e i due infatti si conoscono proprio lì e da un certo punto in poi tom inizia ad andare in quel bar praticamente solo per vederla si prende una bella cotta per lei e la cosa appunto è assolutamente reciproca gli amici di alexis raccontano che i due si sono piaciuti all'istante tom lavora come consulente per il settore petrolifero e questo lavoro lo porta a viaggiare continuamente e come sappiamo viaggiare in giro per il mondo è il sogno di alexis infatti proprio questo aspetto di lui è una delle cose che la fanno innamorare di tom ogni volta che lui va a trovarla al bar dove lavora lei gli chiede dei suoi viaggi dei viaggi che aveva appena fatto e starebbe ore e ore a sentirlo raccontare tom è molto più grande di alexis a ben 23 anni più di lei a 47 anni e anche due figli da una relazione precedente che però vivono con la madre ma nonostante questa grande differenza d'età i due iniziano ad uscire insieme e la cosa tra loro diventa immediatamente una relazione seria alexis sogna di poter seguire tom in tutti i suoi viaggi e per questo motivo inizia a cercare un'attività che le permetta di avere più flessibilità e di lavorare da remoto inizia a curare particolarmente il suo profilo instagram lei è una ragazza obiettivamente molto molto bella e inizia a puntare sulla sua immagine social sperando di poterlo trasformare in un lavoro quindi pubblica post in cui condivide il modo in cui si trucca il modo in cui si fa i capelli ma anche consigli su un'alimentazione sana sull'attività fisica insomma tutte quelle cose che comunque l'appassionano e che fanno parte della sua vita quotidiana alexis fa crescere il suo seguito arrivando ad avere circa 20.000 follower su instagram e a questo punto siamo nel 2018 inizia a lavorare per un'azienda di nome monat ora monat è un'azienda considerata un po controversa per vari motivi e questo in realtà non c'entra molto col caso ma dato che ho nominato questa azienda voglio aprire una piccola parentesi perché secondo me è qualcosa che vale la pena sapere monat è un'azienda considerata controversa un po perché è un'azienda mlm quindi multi level marketing le aziende mlm assomigliano moltissimo a quelle a schema piramidale e le aziende che seguono uno schema piramidale sono illegali giusto mentre il multi level marketing non lo è ma la differenza tra le due cose è talmente sottile che diciamo le persone tendono a guardare di cattivo occhio anche le mlm l'azienda per cui lavora alexis monat è guardata di cattivo occhio non solo per questo però ma anche per le numerose accuse e lamentele dei consumatori riguardo ai loro prodotti per la cura dei capelli molte persone infatti hanno segnalato effetti collaterali gravi negativi tra cui proprio la perdita dei capelli e per quanto io non me ne intenda molto sono abbastanza sicura che una linea di prodotti per la cura dei capelli non dovrebbe farli cadere correggetemi se sbaglio alcune accuse come vi dicevo riguardano anche presunte pratiche di marketing ingannevoli o tattiche aggressive di vendita utilizzati dall'azienda e dai suoi rappresentanti e tutte queste controversie hanno portato anche ad azioni legali contro monat a prescindere da tutto questo comunque alexis inizia a lavorare per monat come rappresentante e le piace tantissimo con questo lavoro lei trova proprio la sua strada perché come venditrice è bravissima essendosi creata un piccolo seguito sui social ed essendo molto bella la gente che la segue si fida dei suoi consigli di bellezza appunto e all'interno delle aziende mlm come monat funziona che ovviamente più prodotti vendi e più persone recluti come venditori e più cresci professionalmente più hai successo quindi alexis cresce molto velocemente all'interno di questa realtà infatti dopo poco riesce a lasciare il lavoro di barista al twin pics e si dedica esclusivamente al lavoro di rappresentante e di creatrice di contenuti sui social dopo l'estate alexis e il fidanzato tom si trasferiscono insieme in colorado lui le chiede di sposarlo e lei accetta i due infatti si sposano il 20 dicembre del 2019 e a questo punto alexis ha anche aperto un canale youtube in cui mostra un po la sua vita pubblica video dei suoi viaggi di lavoro con monat video dei suoi consigli di bellezza sui capelli per esempio ma anche video dei viaggi che fa insieme a tom e da questi video e anche dalle foto insomma dai dai social i due sembrano una coppia affiatata sembrano sereni complici la coppia però rimane in colorado per pochissimo tempo non si sa perché ci rimangono praticamente solo per un mese perché poi a gennaio del 2020 ritornano in texas e si stabiliscono a houston qui chiaramente alexis deve ricominciare un po tutto da capo deve ricrearsi un gruppo di amici e per farlo si aiuta con un'app di incontri che si chiama bumble bff bumble per chi non lo sapesse è un'app di incontri classica tipo tinder per quello che ne so ma a differenza di tinder ha una funzione in più che sarebbe appunto questo bumble bff che praticamente ti consente di trovare delle nuove amicizie invece che incontri romantici gli utenti possono usare bumble bff per trovare persone che abbiano gli stessi interessi gli stessi hobby ed è utile per persone come alexis che si trasferiscono in una nuova città e non conoscono nessuno infatti proprio grazie a quest'app alexis fa amicizia con una ragazza di nome tania riccardo alexis e tania diventano subito amiche e tania la presenta al suo gruppo di amiche e di amici quindi come vedete alexis che come vi dicevo una persona estremamente estroversa nel giro di pochi giorni si è già creata un gruppo di amici nuovo comunque il tempo passa e come purtroppo tutti sappiamo il 2020 è stato un anno di merda la polmonite virale ha colpito la città di huan nel centro della cina che minaccia dunque tutta la popolazione mondiale nel 2020 è esplosa la famosa pandemia e alexis e tom come praticamente tutto il resto del mondo sono costretti a stare in lockdown chiusi a casa per un periodo di tempo la loro vita quindi cambia drasticamente se ci pensate perché loro erano abituati a viaggiare continuamente e adesso invece sono costretti a vivere esattamente al contrario di come sono abituati ma alexis comunque continua a creare i suoi contenuti e ad intrattenere le altre persone che come lei erano confinate in casa e inizia come molti di noi hanno fatto a pubblicare video scemi su tiktok quello è stato il periodo in cui è esploso tiktok tra ottobre e novembre del 2020 si poteva di nuovo viaggiare in alcuni stati prendendo tutte le varie misure precauzionali e infatti alexis in compagnia delle sue amiche quindi senza tom fa un viaggio sempre in texas a marfa passa qualche giorno lì e dopodiché sempre in compagnia delle sue amiche si reca a tulum in messico in cui si tiene una sorta di convention aziendale di monat l'azienda per cui lei lavora e di questo viaggio c'è anche un video sul suo canale youtube in cui lei appare felice e con tutte le sue amiche barra colleghe che balla ride si diverte arriviamo così al giorno del ringraziamento quindi giovedì 26 novembre 2020 alexis è ormai rientrata dal suo viaggio e quel giorno che negli stati uniti è un giorno molto importante in cui ci si riunisce con amici e parenti si mangia il tacchino si sta insieme alexis passa la mattina insieme a tom ma poi il resto della giornata lo passa con la sua amica tania a casa sua con la sua famiglia la famiglia di tania la sera poi esce con altri amici e va in un locale a festeggiare rimanendo fuori fino alle 3 del mattino il giorno dopo venerdì 27 novembre gli amici di alexis iniziano a scriversi sul gruppo che avevano su whatsapp in cui si scrivevano continuamente quella mattina nello specifico stavano organizzando la giornata di sabato quindi del giorno dopo avevano deciso di vedersi appunto il giorno dopo sabato 28 a casa di uno di loro per fare una serata in cui avrebbero guardato dei film praticamente tutto il giorno quindi si stavano scrivendo per decidere quali film guardare cosa portare da mangiare ma alexis in tutto ciò non risponde non scrive nulla per ore e ore e la cosa è estremamente strana per molte ragioni prima di tutto alexis era quella che di solito rispondeva prima di tutti lei per via del suo lavoro era praticamente sempre attaccata al cellulare e comunque a parte questo era molto presente con i suoi amici nel loro gruppo lei rispondeva sempre e rispondeva subito inoltre il giorno dopo il giorno del ringraziamento sarebbe il black friday sapete quel giorno in cui qualsiasi brand o azienda che vende prodotti servizi insomma qualsiasi cosa fa degli sconti incredibili il black friday per le aziende che vendono qualcosa è uno dei giorni più importanti dell'anno per le vendite ovviamente soprattutto in america e anche per alexis lo era alexis infatti aveva preparato tutta una serie di video e post da pubblicare sui suoi social per il black friday riguardante tutti gli sconti dei prodotti monat che lei vendeva ma nessuno di questi post viene mai pubblicato sui social di alexis e lei non si fa viva con nessuno per tutto il giorno fino alle 18 alle 18 manda un messaggio nel gruppo dei suoi amici ma ignorando tutti i messaggi precedenti in cui appunto si facevano i piani per il giorno dopo e in questo messaggio chiede ai suoi amici se ci fosse qualcuno libero quella sera per uscire ma purtroppo nessuno dei suoi amici poteva uscire con lei perché c'era appena stato il giorno del ringraziamento quindi c'era chi era a casa della propria famiglia oppure chi come la sua amica tania per esempio aveva la mamma che era venuta a trovarla le rispondono quindi che non potevano uscire quella sera ma le dicono che si sarebbero visti il giorno dopo appunto per la giornata film a casa di uno del gruppo ma alexis a questo messaggio non risponde più e quella sarà l'ultima volta in cui si avranno notizie di lei il giorno dopo il gruppo di amici si riunisce a casa di uno di loro pronti per passare l'intera giornata a mangiare e a guardare film ma di alexis nessuno aveva avuto notizie ed era il secondo giorno in cui la ragazza si comportava in modo strano in cui appunto non rispondeva ai messaggi non pubblicava nulla sui social gli amici cercano di telefonarle di scriverle ma nessuno risponde al suo telefono tania a questo punto si preoccupa seriamente secondo lei qualcosa non va ed è a quel punto che una ragazza del gruppo di amici una certa chelsea turnbough racconta che la sera prima verso le 23 tom il marito di alexis aveva scritto un messaggio al suo fidanzato un ragazzo di nome john chiedendogli se sapesse dove si trovava alexis tom aveva detto che lui e alexis avevano avuto una piccola discussione lei era uscita ma lui non sapeva dove fosse andata tania insieme ad altri amici decidono di andare fisicamente a casa di alexis e tom per assicurarsi che lei stesse bene ma quando arrivano lì alla porta non risponde nessuno john il fidanzato dell'amica di alexis a cui tom aveva mandato quel messaggio decide di chiamarlo chiama tom e gli chiede se sia tutto ok gli chiede dove sia alexis tom risulta piuttosto strano al telefono perché gli dice che la sera prima dopo aver contattato lui aveva provato a cercare alexis rintracciandola anche attraverso l'app trova il mio iphone ma non ci era riuscito e quindi al momento ancora non si sapeva dove fosse cioè tom non sapeva dove fosse sua moglie che non era rincasata la sera prima ma non aveva ancora chiamato la polizia tania allora decide di telefonare alla mamma di alexis e avvisare anche lei della scomparsa della figlia e la mamma di alexis a sua volta chiama la polizia di houston per denunciarne la scomparsa la prima persona con cui parlano le autorità ovviamente è tom suo marito e gli chiedono esattamente cosa sia successo la sera prima la versione di tom però è subito piuttosto confusa nel senso che si contraddice su alcune cose come per esempio il cellulare di alexis all'inizio aveva detto a john che alexis era uscita senza cellulare cosa di per sé già molto strana per alexis che non sarebbe mai uscita senza cellulare ma comunque poi si era contraddetto perché aveva iniziato a dire di averla cercata usando l'app trova il mio iphone quindi alla fine qual è la verità alexis è uscita col telefono o senza telefono e se è uscita senza telefono perché mentire e is she ever like is it like her to not have her cell phone with her no no she is attached to her phone she is a social media queen she's an influencer she works from her phone like i said if if i was in trouble she would be the first person i would call um and we called and called and called and called and her phone was on and her messages were being sent um but not being read because she had her reader seats on and then until yesterday is when her phone was shut off by whoever has it or you know maybe it was thrown somewhere it finally died but i mean when we realized that her social media was not active for over 12 hours you're like ok this is not right inoltre la sera prima tom aveva detto sempre a john di aver avuto una discussione con alexis prima che lei uscisse adesso invece alle autorità dice che non è così nega non aveva litigato con alexis semplicemente dice che lei era su di giri perché aveva bevuto e prima che uscisse lui le aveva chiesto di non guidare in stato di ebrezza a detta di tom lei era uscita di casa lo stesso era uscita di casa scalza senza scarpe ed era salita su una macchina nera con a bordo persone che lui non conosceva questa era la versione di tom l'amica di alexis tania però non crede ad una sola parola di quello che dice tom tania dice che alexis appunto non sarebbe mai uscita senza telefono così come non sarebbe mai uscita senza scarpe e comunque lei e il suo gruppo di amici erano le uniche persone che conosceva in città e nessuno di loro poteva uscire quella sera quindi chi erano queste persone in questa macchina nera secondo tania non è possibile ed è convinta che se alexis fosse stata arrabbiata se avesse avuto qualche problema avrebbe sicuramente chiamato lei o qualsiasi altra amica del gruppo e ne avrebbe parlato con qualcuno di loro le ricerche per alexis comunque cominciano sua madre posta ovunque sui social le sue foto chiedendo aiuto da parte della comunità e i media riprendono la notizia e ovviamente iniziano a parlarne e il caso diventa subito un caso mediatico la gente voleva sapere cosa fosse successo ad alexis quella ragazza così bella e dalla vita apparentemente così perfetta ristrotta gotta se si aveva ristrotta non e se no Purtroppo solo il giorno dopo si verifica un tragico sviluppo. Alle 8 del mattino un autista di un camion della nettezza urbana nota due piedi sporgere da alcuni cespugli lungo una strada di Houston. L'uomo si ferma e prima di andare a controllare telefona al suo supervisore perché ha un brutto presentimento. Al telefono infatti dice al suo supervisore che quei piedi che sbucano potrebbero sembrare i piedi di un manichino ma per qualche ragione l'uomo pensa che si tratti di qualcos'altro e infatti era così, infatti non si sbagliava. Quello non era un manichino, quello era il corpo senza vita di Alexis. Il corpo di Alexis è stato abbandonato appunto per terra al lato di una strada a circa 3 chilometri dalla sua abitazione. Non mostra nessun segno evidente di trauma, non c'è nessuna traccia di sangue ed è completamente pulito. Per questo era stato scambiato per un manichino. Per sapere esattamente come sia morta Alexis dobbiamo aspettare l'autopsia ma le autorità non hanno dubbi che si tratti di omidio. Secondo loro infatti qualcuno aveva aggredito Alexis subito dopo essere uscita dalla doccia, per questo era completamente nuda e appunto pulita. E poi questa persona aveva scaricato il suo corpo così a lato della strada come se fosse immondizia. Tom si reca all'obitorio per effettuare il riconoscimento e per confermare che il corpo appartenesse a sua moglie Alexis. E lo stesso giorno su Facebook posta questo collage di foto con questa scritta. Baby ti prego dammi la forza. Ti ricordi quando parlavamo e scherzavamo sull'invecchiare insieme? E io ho detto questa è l'unica cosa in cui non mi potrai mai battere. E ridevamo tantissimo perché tu sei così competitiva. Poi posta anche queste foto in cui Alexis indossa il suo abito da sposa e scrive Hai reso la mia vita così incredibile, hai dato un senso alla mia esistenza, la mia ragione di vivere e mi hai mostrato come si ama davvero. I media parlano del caso sempre di più e allo stesso tempo la gente inizia a fare le proprie congetture, inizia a speculare e tutti sembrano avere la stessa teoria, ovvero che sia stato Tom a togliere la vita ad Alexis. La gente dell'internet infatti inizia a perlustrare tutte le piattaforme social e trovano diversi TikTok di Alexis che lì per lì sono sembrati dei TikTok divertenti, nulla di che. Ma alla luce di quello che le è successo, dall'essere divertenti sono passati molto velocemente all'essere inquietanti se non dei veri e propri campanelli d'allarme. Perché questi erano dei TikTok in cui lei scherza sull'indole possessiva, gelosa e violenta di suo marito. In uno addirittura dice mio marito uccide le persone. Guardate. Io ho un bambino. Ed è vero che questi sono solo TikTok, sono dei trend di TikTok. Come funzionano i trend di TikTok? Che tu prendi un audio registrato da chissà chi e lo usi nel tuo contenuto. Quindi questi audio sono usati da centinaia di altri utenti per carità. Però penso che comunque dicano qualcosa in questo caso. Cioè perché Alexis faceva così spesso TikTok con queste allusioni alla violenza del marito. Non so come dire. A me non verrebbe mai da fare un TikTok così perché questi audio non li sentirei miei. Perché mio marito Edo non è così, non è geloso in questo modo esagerato. Non è possessivo, non è violento. Non mi direbbe mai non puoi parlare con altri uomini. Quindi non lo sentirei mio. Invece forse Alexis ha proiettato qualcosa di suo in questi TikTok, in questi audio, qualcosa della sua relazione. Forse li ha sentiti come se parlassero di lei. O forse ci stiamo facendo solo troppe seghe mentali. Io infatti ho fatto un TikTok sul disordine di mio marito. Quello sì che l'ho sentito mio. Passato qualche giorno da tutte queste speculazioni e questi attacchi online contro la sua persona, Tom Sharkey scrive un post su Facebook con scritto questo. Voglio dire una cosa. Alcuni di voi postavano sui social aiutandoci a localizzare il mio mondo. Con il mio mondo intende Alexis. E apprezziamo il vostro aiuto, il vostro amore e supporto. Ma altri invece stanno perdendo tempo parlando di altre cose. Praticamente sparando cavolate. E se mia moglie leggesse queste cose sarebbe molto delusa dalle vostre azioni. Voi dovreste solo vergognarvi. Io sto cooperando con le autorità e sto facendo telefonate per scoprire cosa è successo a mia moglie. La prossima volta fermatevi e pensate e rendetevi conto che non sapete tutto. Quindi Tom si difende dalle accuse delle persone dicendo che lui non c'entra nulla e che sta collaborando con le autorità. Ma il problema è che a questo punto non era più solo la gente a insinuare che le cose tra Tom e Alexis non fossero così perfette come loro le mostravano sui social. A questo punto sono anche gli amici di Alexis a dirlo. Gli amici di Alexis iniziano a farsi avanti e a raccontare che in principio non avevano una brutta opinione di Tom. Anzi le poche volte che lo avevano visto insieme ad Alexis gli era sembrato un uomo gentile, buono, un gigante buono. Molti di loro lo avevano descritto così. E proprio questa definizione mi ricorda inquietantemente un altro caso di cronaca nera italiano. Quello di Elisa Pomarelli che tra l'altro vi racconterò tra non molto. E comunque anche lì c'era un gigante buono che poi si è rivelato tutto tranne che buono. Comunque gli amici di Alexis raccontano che appunto non avevano nulla contro Tom. Però effettivamente avevano trovato strano il fatto che Alexis non ne parlasse mai. Nel suo giro di amiche erano praticamente tutte o fidanzate o sposate e quindi capitava spesso di parlare dei rispettivi partner o di vedersi anche insieme a loro. Alexis però non parlava mai della sua relazione con Tom e non invitava mai Tom ad uscire con loro. Anche nei viaggi che facevano con tutte le amiche lei andava sempre da sola. E non avevano mai dato troppo importanza a questa cosa pensando che semplicemente Alexis fosse fatta così. Ma poi era successo qualcosa che aveva cambiato la visione di tutti. Nel viaggio che Alexis aveva fatto insieme ai suoi amici tra ottobre e novembre 2020 prima di andare in Messico. Vi ricordate che erano stati a Marfa in Texas. Erano lei e alcune sue amiche e una di quelle sere Alexis aveva avuto un crollo. Era scoppiata a piangere e aveva confidato qualcosa di orribile alle sue amiche, ovvero che la sua relazione con Tom era un incubo. Il loro rapporto era tossico. Tom era un uomo violento, possessivo, geloso, che le urlava addosso per qualsiasi cosa e che una volta le aveva anche messo le mani addosso. Alexis racconta che una volta Tom si era arrabbiato così tanto da metterle le mani al collo. L'aveva stracolata così forte, amici, da farle perdere i sensi. Lei infatti ricorda solo di essersi risvegliata sul pavimento del bagno poco tempo dopo. Alexis aveva confidato loro di essersi già messa in moto per chiedergli il divorzio. E qui c'è gente che dice che lei fosse già andata da un avvocato e che avesse le carte pronte. C'è chi dice che dovesse ancora andarci. In ogni caso, il punto era che Tom era un uomo violento e lei voleva lasciarlo. E ora Alexis era stata ritrovata senza vita. E due più due alla fine fa sempre quattro. Anche la mamma di Alexis conferma questa cosa, o meglio, di questo episodio dello strangolamento non sapeva nulla. Probabilmente Alexis non gliene aveva parlato per non farla preoccupare. Purtroppo è tipico di chi è in una relazione tossica il non dirlo a nessuno. Il non parlarne agli amici, il non parlarne alla famiglia. Un po' per paura, un po' per vergogna. Però Alexis aveva accennato a sua madre qualcosa. Qualcosa su una discussione che aveva avuto con Tom. E gliel'aveva detto solo qualche giorno prima dal giorno del ringraziamento. Quindi solo qualche giorno prima dalla sua sparizione. Sua mamma infatti le aveva chiesto di andare a stare da loro, dalla sua famiglia, per le vacanze di Natale. Anche perché tra la pandemia e il fatto che Alexis vivesse lontano, le due non si vedevano da più di un anno. Ma Tom nega tutto questo. Tom nega che lui e Alexis avessero dei problemi. Sostiene che il loro matrimonio era perfetto. E di nuovo nega che ci sia stato un litigio tra i due il giorno in cui Alexis è scomparsa. Tutto questo ovviamente non fa altro che amplificare i sospetti nei confronti di Tom da parte dell'opinione pubblica. Tom allora decide di rilasciare un'intervista telefonica ad un giornalista della ABC di nome Steve Campion. Di cui purtroppo ho trovato solo la trascrizione. L'audio né io né Edo siamo riusciti a trovarlo da nessuna parte. Quindi vi leggerò quello che Tom dice. Parlando di Alexis, Tom la descrive come il suo tutto. E ribadisce che non è vero che stavano divorziando. Il loro matrimonio era felice. Ma poi quando inizia a raccontare di Alexis, di come fosse lei, il suo modo di descriverla contraddice completamente quello che chiunque la conoscesse aveva sempre detto di lei. Tutti l'avevano descritta sempre come una ragazza solare, estroversa, sorridente, con una risata contagiosa a cui piaceva divertirsi. Tom invece la descrive esattamente al contrario di così. Queste sono le sue testuali parole. Lei non era felice. Era triste. Era molto stressata. Io le facevo le coccole cercando di renderla forte. Lei era una donna straordinaria. Mia moglie era una donna straordinaria. Lo era davvero. C'è sempre un altro lato in ogni cosa. Ero io quello che la abbracciava, la coccolava, la consolava e cercava di farla rialzare nei suoi momenti bui. Non ho bisogno di dimostrare queste cose a nessuno. Lascerò che le cose facciano il proprio corso. Io so com'era la mia vita con mia moglie. Quindi lui sta dicendo che in realtà Alexis non era la ragazza felice e spensierata che tutti, persino sua madre, descrivono. Lui dice che in realtà lei era triste. Non era felice. Era stressata. E parla come dire che nessuno la conosceva. Solo io la conoscevo. Io ero quello che la consolava. Io ero quello che era lì per lei. E questa cosa mi fa riflettere. Perché come sapete anche io ho vissuto una brutta relazione tossica in passato che era anche violenta. E anche di me in quegli anni sicuramente la persona che mi faceva del male poteva dire che voi non la conoscete Elisa. Non è sorridente. Elisa piange sempre. E quindi a Tom vorrei tanto dire che forse tu sei l'unico a descrivere Alexis come una persona triste. Perché Alexis è triste solo quando è con te, magari. Forse lei è la persona solare e spensierata che tutti descrivono. Ma quando è con te, che stando a quello che racconta lei stessa le urli addosso e la strangoli facendole perdere i sensi, sai magari quando è con te è triste e non è felice ed è stressata. Non so, ma trovo che persino in queste due frasi in croce trapeli la possessività di quest'uomo che vuole fare sapere al mondo che solo lui aveva accesso alla vera Alexis. Perché Alexis era solo sua e nessun altro la vedeva come la vedeva lui. Ovviamente questa è una mia visione e sentitevi liberi di contraddirmi nei commenti. Comunque poi parlando di come sia stata ritrovata Alexis, del fatto che appunto qualcuno le abbia fatto del male, dice questo. È orribile. Le persone stanno sparando tantissime cavolate su di me. Sto ricevendo minacce di morte e cose del genere. Ma niente di tutto questo mi importa. Quello che mi importa è che il mondo e tutti quelli che lo abitano si focalizzano sulle cose che non hanno importanza, mentre avrebbero dovuto focalizzarsi sul trovare mia moglie. Tutti la stavano ancora cercando e sono stato io a localizzarla domenica mattina all'obitorio. Loro non riuscivano neanche ad identificare mia moglie. Non sapevano chi fosse. Lei era solo sdraiata lì. Qua invece quindi lui si sta prendendo il merito di aver ritrovato lui, Alexis. Mentre come sappiamo non è così. È stato quell'uomo che si era imbattuto nel suo corpo abbandonato in mezzo alla strada. Tom era semplicemente andato all'obitorio per identificarla. Perché funziona così. Cioè non è che il medico dell'obitorio guarda un corpo che gli arriva e dice Ah sì, lei la conosco. C'è bisogno di qualcuno, un parente, un familiare, il marito, come in questo caso, che vada fisicamente ad identificarla. Ma vabbè. Poi il giornalista gli chiede cosa si siano detti lui e Alexis prima che lei sparisse. Probabilmente vuole sapere se è vero che hanno litigato quell'ultima sera. Al che lui risponde così. Lei mi capiva. Io capivo lei. Non abbiamo litigato quando è uscita. Le ho solo detto che non poteva guidare in stato di ebrezza. Ma lei è uscita comunque. E dopo questo, secondo il giornalista, Tom ha bruscamente interrotto la conversazione. Dicendogli Scusi, non sono uno stronzo, sono solo distrutto. Il 19 gennaio viene rivelato l'esito dell'autopsia. L'Istituto di Scienze Forensi della Contea di Harris chiarisce che Alexis Sharkey è stata uccisa tramite strangolamento. Ed era stata afferrata da dietro, quindi era stata aggredita alle spalle. A questo punto, immaginate, si era ormai divulgato quello che gli amici di Alexis avevano raccontato, ovvero che Alexis gli aveva confidato di essere già stata strangolata da Tom. E ora, questa era stata proprio la modalità in cui la ragazza era stata uccisa? I sospetti su Tom sono più forti che mai, perché, come abbiamo già detto, 2 più 2 fa sempre 4. E infatti lui, di tutta risposta, inizia a comportarsi in modo ancora più strano. E dico strano per non dire strozo. Perché praticamente Tom, dopo il risultato dell'autopsia, decide di gostare tutti. Sparisce. Non parla più agli amici di Alexis, non parla più con la famiglia di Alexis, perché è offeso dal fatto che tutti sospettino di lui. Che da un lato potrebbe anche avere senso, cioè, se lui fosse davvero innocente, non sarebbe carino da parte degli amici di Alexis raccontare pubblicamente quelle che, a detta di Tom, sono delle bugie. Ma la madre di Alexis non ha mai detto nulla pubblicamente contro di lui, però lui dice che lo percepiva. Che anche lei sospettasse di lui. Lo percepiva e quindi ha deciso che, tiè, non ti parlo più. Addirittura, pensate che il corpo di Alexis, una volta fatta l'autopsia, chiaramente dovrebbe essere preso dal parente più prossimo, che in questo caso sarebbe Tom, perché è suo marito, così da poterle dare una degna sepoltura. E con la madre di Alexis si erano messi d'accordo su come celebrare il funerale della ragazza. Ma Tom aveva deciso di non parlare più alla madre di Alexis e quindi non si degna neanche di prendere il corpo di Alexis dall'obitorio. Il corpo di Alexis rimane in obitorio abbandonato per ben due mesi, perché legalmente Tom era l'unico a poterla portare via. E lui era sparito, se ne era lavato le mani, non rispondeva più alle chiamate e neanche ai messaggi della mamma di Alexis, non rispondeva più a nessuno, perché si era offeso, capito? Immaginate essere nei panni della mamma di questa ragazza, uccisa all'età di soli 26 anni, che vorrebbe solo darle una degna sepoltura. E immaginate di non potere, perché il marito di 47 anni e fischia si comporta come un bambino di 8. E non solo questo, amici. Tom non solo aveva gostato tutti, ma si era proprio trasferito in un altro stato. Tom, infatti, a questo punto si è trasferito in Georgia. La madre di Alexis allora decide di chiamare l'obitorio e prova ad insistere con loro, prova a spiegargli la situazione. E fortunatamente loro capiscono e dopo due settimane la richiamano dicendo che avevano deciso di violare il protocollo solo per quell'occasione, così da permetterle di portare via il corpo di sua figlia. Tra l'altro la madre di Alexis aveva anche chiesto a Tom di darle i gatti di Alexis. Lei aveva due gatti a cui teneva tantissimo, li trattava come se fossero i suoi figli. Ma Tom non le risponde neanche per questo e, onestamente, non ho idea di che fine abbiano fatto questi gatti ad oggi. Tutti questi sviluppi non passano inosservati ai detective, che infatti, nell'agosto del 2021, convocano Tom per raccogliere un campione del suo DNA. Tom però, come vi dicevo, non vive più a Houston in Texas, adesso vive in Georgia e quindi gli risponde Sì, certo, sono disponibile a darvi il mio DNA, però dovete venire voi qua. I detective allora si recano in Georgia, dove gli aveva indicato Tom, ma l'uomo non si fa trovare. Non risponde alle loro chiamate e nuovamente non si sa dove si è finito. Dopo qualche tempo i detective riescono a contattarlo, al che Tom gli spiega che aveva avuto un contrattempo, cioè non è che non volesse fornirgli il campione di DNA. E, a detta di uno dei detective, fornisce una storia alquanto bizzarra che spiegherebbe il perché non si fosse fatto trovare dalle autorità. Questa storia bizzarra però purtroppo non è stata resa pubblica, quindi non la conosceremo mai. Fatto sta che i detective a questo punto sono certi che il responsabile della morte di Alexis sia proprio Tom. Anche perché ogni volta che riuscivano a parlarci al telefono, l'uomo cercava di depistare le indagini e tentava di affibbiare la colpa a qualcun altro. Ogni volta se ne usciva fuori con qualche possibile colpevole nel caso, che nella maggior parte dei casi era qualche amico di Alexis, a cui lui cercava di dare tutta la colpa. Peccato che tutti gli amici di Alexis avevano davvero cooperato con le autorità e tutti avevano fornito campioni dei loro DNA, al contrario di lui. Infatti, a settembre del 2021, le autorità hanno ormai vagliato qualsiasi altra pista, hanno indagato su qualsiasi possibile sospettato, ma l'indagine alla fine aveva stabilito che Tom Sharkey fosse l'unica persona ad avere i mezzi, il movente e l'opportunità di commettere l'omicidio. A questo punto, quindi, Tom è ufficialmente ricercato dalle autorità del Texas, ma di nuovo non si riesce a localizzare perché non vive più neanche in Georgia. Ha di nuovo cambiato stato e dopo qualche giorno di ricerca riescono a scoprire che Tom si è trasferito in Florida, a casa di una delle sue figlie. Vi ricordate che aveva due figli da una relazione precedente? Le autorità del Texas, quindi, si coordinano con le autorità della Florida e la notte del 6 ottobre 2021 la polizia si reca all'abitazione in cui risiede Tom con un mandato d'arresto per, appunto, arrestarlo. Le autorità avevano deciso di fare tutto quanto in segreto, cioè di non avvisare l'uomo del fatto che stessero andando lì ad arrestarlo, perché, ovviamente, temevano che sarebbe di nuovo fuggito, ma di sicuro non avrebbero mai potuto immaginare quello che invece è successo. La notte del 6 ottobre 2021 la polizia, appunto, si reca alla casa in cui Tom vive con sua figlia e una volta fuori dalla porta lo contattano, sicuri del fatto che si trovasse all'interno della casa, e gli comunicano che la casa era circondata e che sarebbero entrati per arrestarlo per l'omicidio di Alexis Sharkey. Tom però si rifiuta di aprire la porta e nel giro di pochi minuti corre al piano di sopra, si barrica in un armadio, prende una pistola e si spara un colpo alla testa, uccidendosi all'istante. Quando la madre di Alexis ha preso la notizia della morte di Tom, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell'ex genero, e si è detta stupita del suo gesto, ma ha ammesso di aver pensato fin dall'inizio che fosse lui il colpevole. Ad oggi purtroppo, a causa del suicidio di Tom, rimangono parecchi i dubbi su questa storia. Non sapremo mai cosa esattamente sia successo quella notte e il motivo per cui Tom abbia tolto la vita ad Alexis. Gli amici della ragazza raccontano che durante il viaggio in Messico, Alexis aveva conosciuto un ragazzo di nome Sebastian, con cui c'era stata una chimica istantanea. Alexis gli aveva detto però di essere nel mezzo di un divorzio e gli aveva detto di voler aspettare, a frequentarlo, fino a che non fosse stata libera di farlo, fino a che non fosse stata single. I due si erano però scambiati i numeri di cellulare e ogni tanto si sentivano. Quindi gli amici di Alexis pensano che magari Tom abbia scoperto di questo Sebastian, o che semplicemente non abbia saputo accettare il fatto che Alexis volesse lasciarlo, che non abbia saputo accettare il fatto che Alexis non fosse di sua proprietà. In ogni caso, come sappiamo, tanto non esiste nessuna giustificazione per un gesso del genere. E togliendosi la vita, Tom non ha fatto altro che comportarsi ancora una volta da egoista. Ha tolto la vita ad una donna innocente, colpevole solo di volere una vita migliore, lontana da lui, e poi si è tolto la vita così da non affrontare le conseguenze di quello che ha fatto, così da non prendersi le sue responsabilità, per esempio affrontando un processo e scontando una giusta pena. E purtroppo amici, queste sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemelo sapere nei commenti, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo amici, come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi, e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!